adesso andiamo a vedere sempre qui al commo se ci sono dei funghi vedete qui ci sono quattro belle ciuppadelle guarda che meraviglia e qui dietro nascosta un'altra un'altra trovata adesso e qua dietro un'altra trovata adesso tutto questo in un parco ecco la gente che cammina quello mi sa che va a funghi quindi noi facciamogli vedere dove sono i nostri funghi ciao ciao gran bei funghi ragazzi